Ehi Lina, guarda che non dovete venire a casa, ma andate direttamente a Pitt, noi siamo già in viaggio. È passata più di mezz'ora e non sta a migliorare niente, io chiamo il pronto soccorso. Vieni qua Enrico. C'era nel braccio il colpo, gli hai sparato! Sei boccato con il pettine, qualcosa di... Non lo so! Poi è diventato tutto bianco e poi non respira più. Questa vasca è pulita. Signora, ma è stata lavata la vasca? Parla. Dio a mamma che succede.